ciao a tutti oggi proveremo assieme il nuovo firmware che absan ha rilasciato i giorni scorsi sullo zino mini pro e verificheremo assieme se i problemi che ho segnalato nelle mie prove sono stati risolti o meno prima di iniziare vi chiedo un like ed iscrizione se non l'avete ancora fatta grazie benvenuti in un nuovo video di quadricottero news come detto oggi proviamo la nuova app 2.0.7 e il nuovo firmware 1.2.8 come possiamo leggere le novità riguardano una nuova funzione che permette di scaricare video e foto collegando lo smartphone direttamente al drone con il cavetto un miglioramento sulla qualità delle foto e quindi immagino anche video con l'eliminazione della dominante blu l'aggiunta della voce giorno con sole oppure giorno nuvoloso per quanto riguarda il bilanciamento del bianco ma soprattutto la possibilità di attivare una voce per eliminare l'effetto moire poi è stata ottimizzata l'accuratezza del calcolo della distanza ed è stato aggiunto il monitoraggio della temperatura in pratica con questo aggiornamento absal ha confermato tutto ciò che ho riscontrato nelle mie prove la cosa che mi lascia perplesso è che nelle prime recensioni apparse su youtube di questi aspetti non se ne è mai parlato partiamo dalla questione temperatura nelle mie precedenti prove ho scoperto tramite l'utilizzo di una termocamera che lo zino mini scalda moltissimo in particolare scalda moltissimo quando è fermo mentre ad esempio collegato al computer per scaricare i file dopo quattro minuti raggiunge già 64 gradi con la temperatura che continua lentamente a crescere perché lo zino mini pro non ha una ventola interna come tutti i droni sotto i 250 grammi di peso uno dei momenti più critici per lo zino mini quando fa overing indoor come vedete qua avevo misurato 76 gradi ma ho visto anche punte di 80 gradi mentre quando vola in esterno la situazione è molto più accettabile le temperature scendono perché ha modo di raffreddarsi e quindi tutto è più sostenibile da queste mie prove avevo concluso e consigliato di raffreddare lo zino mini dopo 5 minuti in cui resta acceso da fermo magari appunto collegato al computer di limitare il volo indoor a pochi minuti di limitare l'overing anche fuori quando siamo in una caldissima giornata di sole e di non preoccuparsi troppo se invece lo utilizziamo in un normale volo all'esterno in una normale giornata in quanto riesce comunque a raffreddarsi e a mantenere temperature accettabili anche se un po elevate sarà sicuramente una coincidenza ma absan dopo due giorni in cui ho pubblicato i miei video con la camera termica ha aggiunto il controllo della temperatura sul lo zino mini pro in basso a destra adesso c'è un circoletto dove viene indicata la temperatura in real time in questo modo ognuno di noi non ha più bisogno di un termometro o di una camera termica per verificare le temperature cliccando sopra il circoletto che adesso indica 45 46 gradi perché come ho detto più si tiene fermo più le temperature salgono appare una pagina di spiegazioni più l'indicazione della temperatura della batteria in pratica quando il circoletto è verde nessun problema quando è giallo le temperature sono salite ma non ci sono problemi quando è arancione absan dice che bisogna evitare di fare overing per lungo tempo la stessa cosa che ho detto io nelle conclusioni del mio video precedente quando invece l'indicatore diventa rosso significa che inizia esserci sul riscaldamento e quindi absan dice di disabilitare i sensori di evitamento ostacoli la registrazione video e altre funzionalità che comunque vengono disabilitate automaticamente quando la cpu raggiunge 87 gradi o più per absan la temperatura limite della cpu è di 100 gradi e indica 100 gradi anche la batteria cosa che mi lascia abbastanza perplesso perché è vero che le batterie sono due 18 650 e quindi agli ioni di litio e non lipo e quindi sono meno sensibili alla temperatura ma consultando vari data sheet sulle 18 650 di diversi produttori ho notato che una temperatura limite estrema vi è indicata intorno ai 75 80 gradi quello che è certo è che più i componenti lavorano ad alta temperatura e meno longevità hanno in particolare ripeto alla batteria che è un elemento molto delicato ma passiamo alla prova dopo aver atteso 1 o 2 minuti in modo che lo zino mini agganciasse i satelliti sufficienti che però vedo fa fatica ad agganciare perché sono rimasti a 10 la temperatura è salita a 51 gradi e quindi è meglio decollare andiamo sul menu a vedere quali sono le novità in particolare del reparto video abbiamo le solite risoluzioni confermiamo il 4k settore bitrate a 200 megabit al secondo per avere il massimo della qualità e vediamo che il colore adesso ha altre voci giorno ordinario solleggiato e moire off avviamo la registrazione video però noto subito che quando la registrazione è avviata non si possono cambiare i parametri per cambiare i parametri è necessario interrompere la registrazione ma è una cosa comune a molti droni comunque per cambiare da giorno solleggiato a giorno ordinario oppure per togliere il moire bisogna interrompere la registrazione ed è attivo soltanto una voce alla volta ad esempio se si toglie il moire non è possibile scegliere giorno ordinario o solleggiato prima di verificare la qualità video provo nuovamente i sensori ostacoli perché voglio capire se absan ha eliminato questo fastidiosissimo bip continuo che che continua a esserci anche quando si vola in alto i sensori funzionano bene una volta calibrati soltamente fiducioso che me lo faccio venire addosso e fortunatamente si ferma tra l'altro mi ha rilevato anche se io ero leggermente di lato riprovo ecco che si è fermato perché questa volta era più vicino ma come potete notare io lo stick è tutto in avanti ma il drone non avanza funziona soltanto a destra a sinistra vedete quindi i sensori sono promossi l'unico problema come ho detto è che questo continuo bip c'è anche quando si vola in alto adesso provo ad andare in alto come sentite continuo a fare bip 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 è praticamente impraticabile condurre un drone in questo modo adesso sono già 50 metri e continuo a bip pare adesso sono a 60 e continuo a bip pare passiamo alle foto ci sono i controlli manuali riferimento agli iso e all'otturatore però non c'è possibilità di bloccare l'esposizione non c'è modo di vedere se la nostra regolazione ha sovraesposto la foto oppure no e quindi è difficile capire se l'esposizione è corretta basandosi soltanto su ciò che vediamo sullo schermo dello smartphone magari in una giornata di sole e quindi alla fine per essere sicuri si setta la modalità auto o almeno si scattano anche delle foto in modalità auto queste sono le modalità con cui si possono scattare le foto e questo è un esempio di foto jpeg la dominante blu sembra essere scomparsa o comunque attenuata adesso le foto raw funzionano vengono memorizzate come dng però sono inutilizzabili come potete vedere ma passiamo alla qualità video allora questo è il video normale come ho detto anche nelle foto la dominante blu sembra essere scomparsa se non molto attenuata c'è ancora un po di effetto gello e si vede il moire che si vedrebbe di più se ci fosse luce piena questo effetto è causato dall'elevato sharpening e questo invece la stessa scena con moire off rivediamo qua è normale con lo sharpening e qua è con il moire off senza sharpening l'effetto dell'immagine sicuramente più naturale anche grazie al fatto che la dominante blu è stata ridotta in più l'effetto gello si nota molto di meno anche se resta però è meno percettibile diciamo dipende anche dalla velocità del drone e se incontra folate di vento che lo destabilizzano quello che però ho notato è che la immagine al centro va bene però ai lati è molto meno definita secondo me c'è un problema di obiettivo ed è per questo che secondo me ha aumentato lo sharpening per far notare meno questo difetto ai bordi dovuto all'obiettivo secondo me dovuto alla lente vediamo un'altra inquadratura come ho detto al centro sembra andare bene ma ai bordi perde definizione ecco il confronto diretto si vedono le differenze e secondo me è una mossa che ha fatto absen per mascherare meglio la definizione più bassa ai bordi dell'immagine per quanto riguarda l'autonomia in questo volo ha volato di più con la batteria al 16 per cento nei precedenti voli raggiungevo 27 minuti in questa occasione siccome non ho registrato per tutto il tempo è arrivato a 30 minuti quando la batteria era al 16 per cento se poi si insiste e si tiene più in volo ignorando i messaggi di atterraggio automatico la procedura di atterraggio automatico che viene segnalata periodicamente la durata è maggiore ma facendo così si mette a rischio la batteria sarebbe meglio atterrare quando lo indica l'app cioè a 15 16 per cento senza andare oltre perché se scendiamo sotto i 6 volte ovvero 3 volt per cella il rischio di danneggiare la batteria è veramente alto anzi in questo caso direi di essere ancora più prudenti di atterrare quando la batteria raggiunge il 20 per cento per via delle temperature che sono più alte del solito ad esempio come potete notare adesso abbiamo 54 gradi perché sto facendo overing a fine volo durante il volo la temperatura era più bassa ma come ho detto quando si fa overing le temperature si alzano allora controlliamo la temperatura della batteria segna 51 gradi sono temperature alte ma comunque accettabili è veramente tempo di atterrare vi saluto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e grazie per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione e appunto quattro Oggi